Ecco che vediamo Giuliani che la passa, Valerio disgrazia, che la passa di nuovo a Giuliani. Tegol di Giuliani su un disgrazia con un passaggio filtrante, la palla Cuscino vola, Cuscino che continua a sorvolare la metà di campo. Cuscino che viene colpito di nuovo da Giuliani, intercettato da Valerio. Ecco che il cronista si butta su Giuliani per cercare di rubargli la palla, il Cuscino glielo tira con violenza, lo riempie anche di canci. E ho il Cuscino, il cronista, il vostro cronista affezionatissimo è il Cuscino. E lo lancia verso il cielo. Una sfida straordinaria questa. Lo prende di nuovo e corre, corre col Cuscino ragazzi. E vola verso la libertà. Cuscino che continua a essere maltrattato. Ecco un rigore di Giuliani che sta per lanciare la palla. Qui è sempre il vostro cronista che vi parla. Arriva una macchina, un intruso. C'è il clamoroso palo. Tedesca? Di Giuliacci. Questo è il giardario. C'è il giardario. La palla continua a volare nel cielo, sorvolando i pinguini e i caribù. Ecco che riprendo la palla, però di nuovo... Parigi che facci giocare e lì lo ti affideremo. Cuscino cattina a volare verso la salvezza. Rigore? Rigore di cinema. Ecco un altro rigore da parte di Giuliacci. Si ripara, tira la palla e la palla sorvola la platea arrivando sul pianeta blu. Scontro fra omosessuali convinti. Intanto si masturba il portiere, mentre l'attaccante si ripara il tiro straordinario. Ecco che si ripara il tiro, un tiro abbastanza alto per il nano Giuliani, che sta a prendere il culo. Intanto io lancio la palla, il nano Giuliani riesce a prenderla. Straordinaria azione. Ecco che quel nano di merda di Giuliani tira di nuovo e va sempre a finire su questa macchina. Questa macchina violentata tre volte dal cuscino. Cuscino che continua a sorvolare metà campo. La potenza. Ecco, questo è il cuscino. Cosa ne pensa il signor cuscino della partita? Non ha parole, straordinario. Ora lo rilancio verso la libertà. Ecco qui, di nuovo il cuscino che vola. Salve, salve. Il cuscino che mi viene salvato appena in tempo da delle macchine che stavano per farci un trinciabue. Parada straordinaria di Giuliacci, questo nano malefico, che mi guarda e mi preoccupa. Intanto siamo sempre qui, sempre in diretta. Una partita veramente sensazionale al Cardiopalma. Salutiamo Crostini di Vitello di Fonsi. Della sua salumeria. Ecco che Giuliacci ritira, ma viene parata. Qui di nuovo continuano a muoversi. E prende il cuscino e lo spedisce in orbita. E finisce l'epoca e il cuscino. Un saluto a tutti. Ah, ma è per rivederci. Corruti!